Una maestra a dinaro muore dopo un malore improvviso davanti agli alunni di una scuola della provincia di Verona. Richieste di interventi urgenti a Gibil Gabbib, parla l'assessore comunale Marcello Frangiamone. Nissa Rugby, petizione su internet per il manto sintetico dello stadio Tomaselli. Chiediamo che venga rispettato il capitolato del bando. E' morta stroncata da un malore improvviso, contro il quale non sono bastati soccorsi tempestivi di colleghi e personale sanitario. E' scomparsa così Giovanna Fabrica, 44 anni, originaria di Naro in provincia di Agrigento, maestra presso la scuola primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, nel Veronese. L'insegnante abitava a Cerea con il marito Angelo e dallo scorso anno insegnava presto l'Istituto Ederle Scienza e Geografia. Il malore l'ha accolta ieri pomeriggio alle 14, mentre era in classe con i suoi bambini dopo aver concluso da poco la lezione del consueto rientro pomeridiano. Improvvisamente, dopo aver salutato il collega di italiano che era entrato in classe per svolgere le ore successive di lezione, la maestra si è accasciata a terra prima di uscire dalla seconda B. Il maestro, tempestivamente senza farsi prendere dal panico, è intervenuto subito praticando il massaggio cardiaco, appreso lo scorso anno nel corso salvavita che l'Istituto Ederle aveva attivato per tutto il personale. Nel frattempo richiamava l'attenzione degli altri insegnanti perché si precipitassero con il defibrillatore in dotazione alla scuola e portassero fuori i bambini che, sotto shock, avevano assistito alla drammatica scena. Mentre il maestro ha continuato per un quarto d'ora la manovra di rianimazione, sono arrivati sul posto un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso di Verona Emergenza. Purtroppo però, nonostante 30 minuti di tentativi per salvarle la vita, per la giovane maestra non c'è stato nulla da fare. A distanza di qualche giorno dalla conclusione della fiera di San Michele svoltasi nell'area dell'ex foro Buario di Caltanissetta, torniamo a parlare di Gibi Gabib. In una nota di fine settembre il presidente del comitato di zona Totò Pecoraro infatti faceva riferimento al luogo scelto per ospitare la manifestazione, ai disagi per i residenti nel rientrare a casa manca le condizioni in cui versano le strade. E proprio di strada abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone, chiedendo aggiornamenti sul progetto che permetterà alle famiglie che abitano nella zona di riscontrare delle migliorie nella viabilità e agli interventi di manutenzione in programma. L'attività che si sta svolgendo sulla contrade sulla via Gibi Gabib è di due tipi. Da un lato c'è il completamento di un progetto che deve essere avviato entro fine anno per quanto riguardava la via Gibi Gabib che è un progetto importante per la sistemazione della strada fino ad arrivare all'area degli scavi sostanzialmente. Contemporaneamente si sta provvedendo a dare l'avvio a dei lavori di manutenzione ordinaria, quindi diciamo dei lavori più semplici però altrettanto importanti per quanto riguarda la strada vicinale che ha necessità di interventi per renderla meglio percorribile agli autoveicoli e anche a tutti gli automezzi. Anche questi nel breve termine saranno avviati. Per i lavori di manutenzione ordinaria già l'impresa è stata individuata e quindi questi lavori nel breve tempo partiranno. Per gli altri, essendo un intervento più importante, a conclusione del progetto dovrà essere avviata tutta la procedura per la gara e poi quindi potranno iniziare i lavori. Probabilmente passerà qualche mese di più. La DLF Nista Rugby ha lanciato una petizione online per la querela del campo del Tomaselli che giorno dopo giorno prende sempre tinte più colorite. Dopo sei anni di lotte per non perdere il finanziamento da circa un milione di euro elargito da Conisport e Salute, il rifacimento del mando erboso dello stadio Tomaselli in superficie artificiale con doppia traccatura a calcio rugby sta diventando un'utopia. Il rugby a Caltanissetta è ormai presente da vent'anni continuativamente. Una tradizione della città che insieme alle squadre di altri sport quali il calcio, la pesistica, il basket e la pallavolo rappresenta la città in Italia. Nista Rugby concentra le sue attività allo stadio Tomaselli che ha curato anche negli anni, ripulito e reso fruibile a migliaia di bambini e famiglie provenienti da tutta la Sicilia, nonché dalle scuole del territorio. Il Tomaselli è la cattedrale dello sport nisseno ed oggi è minacciata nella sua possibilità di restare tale. Ad oggi non risulta la traccettura intarsiata per il rugby, pregiudicando alla squadra la possibilità di giocare, non potendo FIR concedere l'omologazione per un gambo così. Non essendoci altre strutture in città, pregiudicherebbe a centinaia di bambini di giocare ad uno sport che fa ormai parte della tradizione della città e a chissà quanti altri di conoscere un nuovo sport. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Fabrizio Blandi, delegato provinciale FIR. Abbiamo lanciato questa petizione ieri, che già stamattina ha raggiunto le 500 firme, dal Confrensorio, dalla Sicilia, da tutta Italia, perché noi facciamo parte di una di una rete di società che è quella delle Zebbre Family, che ci sta supportando in tutto e per tutto. Anche le Zebbre Parma stesse, che sono il capofira di questa rete, ci permetto di ringraziarli, si sta spendendo molto per noi. Anche grazie alla federazione io penso che sono molto fiducioso e raggiungeremo un buon risultato dal punto di vista della petizione. così a chi ascolta diremo anche che faremo degli eventi in presenza, appunto per la raccolta firme, per sensibilizzare le persone su quello che è un problema di tutti, cioè che lo sport e lo stadio Tomaselli rimanga una struttura per tutti quanti. Anche perché ci dobbiamo sempre ricordare che qui la più grande eccellenza che abbiamo a Caltanissetta è la pesistica, e la pesistica è lo stadio Tomaselli, quindi non è uno stadio né del rugby, del solo rugby, né del solo calcio. È uno stadio che va bene per tutti quanti e deve rimanere una casa che nessuno ha in questo momento a disposizione, perché gli altri sei stadi più grandi del nostro sono ad esclusivo appannaggio di società professionistiche. Deve rimanere quello che è, cioè una casa per tutti gli sportivi, sia professionistici sia amatoriali. Dalla fine del 1500 ad oggi, copertine segnate dal passare degli anni, o meglio dei secoli, pagine in giallite che probabilmente sono state sfogliate e risfogliate, lette e rilette, oggi però con un occhio diverso rispetto al passato, quando quelle notizie raccontate nei fogli di giornale erano attualità, mentre adesso sono storia. Alcuni testi e documenti delle biblioteche, archivi Benintende e Lanzirotti sono stati esposti all'interno di una delle sale del Palazzo dell'Ex Poste, sabato 8 ottobre. L'Associazione di More Storica Italiana ha infatti promosso la prima giornata nazionale di apertura di biblioteche e archivi privati, e così anche la cittadina nissena ha avuto l'occasione di vedere da vicino volumi e carteggi, anche se non all'interno del reale sito in cui abitualmente vengono custoditi, poiché, come si legge in una nota della sezione siciliana dell'Associazione e in completo il restauro dell'edificio storico Lanzirotti Benintende. Spero che, si precisa ancora nella nota della Presidente della sezione siciliana, attraverso questa esposizione i libri, i documenti e i carteggi scelti siano in grado di suscitare i presenti la riflessione che le dimore storiche, anche quelle collocate nell'entroterra della nostra meravigliosa isola, come nel nostro caso, hanno tanto da esprimere e possono dare opportunità di ricchezza interiore e materiale, a coloro i quali scelgono di investire le loro energie in esse, malgrado le difficoltà non indifferenti. Anche Caltanissetta ha quindi aderito, così come avvenuto in altre città in tutta Italia, all'iniziativa Carte in Dimora, archivi e biblioteche, storie tra passato e futuro. Evento nazionale dell'Associazione Dimore Storica Italiane, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con l'Associazione Nazionale Case della Memoria, nell'ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, si legge nel sito dell'Associazione. L'evento ha anche ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, ministero che il giorno successivo ha promosso le Domeniche di Carta, che punta alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario di biblioteche e archivi dello Stato. Prolungata fino a fine ottobre, la durata della mostra Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito. Organizzata dalla regione siciliana all'interno del Parco archeologico di Bosco Littorio Gela, allestita dalla soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta, già dal 22 luglio e fino alla fine di ottobre, continuerà a raccontare il passaggio dell'eroe greco in Sicilia. La nave di Gela, per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia, è protagonista di questa mostra, rinvenuta nei fondali davanti la costa di Bulala. Grazie alla disponibilità del Dipartimento regionale dei beni culturali, che ha concesso un ulteriore finanziamento per coprire i costi supplementari, e grazie anche alla disponibilità degli enti prestatori che hanno autorizzato i prestiti per altri venti giorni, la mostra Ulisse in Sicilia sarà prorogata fino al 30 ottobre. Questo principalmente per consentire ai tanti che ne hanno fatto richiesta di poterla visitare, prevalentemente le scuole. Il punto di forza di questa mostra è indubbiamente il racconto del mito, il mito di Ulisse. Ancora vivo in Sicilia è presente in molte parti dell'isola, che viene raccontato attraverso un percorso espositivo costituito da otto sezioni tematiche. Il fulcro di questo percorso è certamente la nave greca recuperata nelle acque antistanti con Trada Bulala, Gela, dalla soprintendenza, con diverse campagne di scavo negli anni 90 e simboleggia il viaggio di Ulisse. Dalla nave poi si diparte ovviamente tutto il percorso che porterà finalmente al ritorno a Itaca di Ulisse e si conclude con una sezione dedicata ai viaggiatori che nel Settecento percorrevano la nostra isola raccontando le peculiarità della Sicilia e soffermandosi particolarmente sui luoghi oggetto del mito di Ulisse. L'allestimento è suddiviso in otto sezioni tematiche, 80 ai pezzi di musei regionali, nazionali ed esteri esposti dal Museo Nazionale di Vieta di Ruvo di Puglia, al Museo Etrusco Guarnacci di Volterra, al Museo Nazionale di Villa Giulia Roma, come il Museo Nazionale di Sperlonga e di musei archeologici greci di Delfi e di Eleuterna. Un lavoro che consente ai visitatori di fare un viaggio alla scoperta della storia seguendo i passi dei greci in Sicilia e nel Mediterraneo ed il fascino delle vicende di Ulisse. I disegni sono appunto miei di quando avevo 11 anni circa e sono appunto tutti dei bozzetti di statue, opere che poi ho realizzato quando sono diventato un pochino più grande. Racconta le sculture, bozzetti e disegni di Michele Tripiciano presenti nelle varie sale della Galleria Civica d'Arte di Palazzo Moncade. Lo fa parlando in prima persona il volontario della Proloco Nissena Armando Gioia che per un giorno veste i panni dello scultore Nisseno vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e inizi del Novecento. Interpreta dunque il ruolo dell'artista accogliendo e guidando i bambini tra le opere in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo. Numerosi infatti musei in tutta Italia che hanno aperto le porte più piccoli insieme alle loro famiglie domenica, prevedendo attività loro dedicate come nel caso del Museo Diocesano Monsignor Giovanni Speciale di Caltanissetta. E così la Proloco Nissena ha proposto anche dei giochi fotografici. Come ogni anno Caltanissetta aderisce all'iniziativa di Famiglia al Museo in breve Famu. Sono tanti musei diversi, musei comunque che aderiscono e anche noi come Proloco abbiamo aderito con il museo dedicato a Michele Tripiciano grande scultore Nisseno. Oggi l'iniziativa è dedicata ovviamente alle famiglie e soprattutto anche ai bambini. Quindi abbiamo realizzato diverse attività per i bambini per farli divertire all'interno del museo. Lo ripeto ormai da tantissimo tempo, sarò ripetitivo, però noi crediamo fortemente che la cultura comunque Nissena deve essere data ai bambini già proprio dall'infanzia, insomma, già dalla scuola elementare, insomma. Devono assolutamente crescere consapevoli del fatto che Caltanissetta ha tante potenzialità e devono assolutamente conoscere da dove vengono e le persone che hanno fatto tanto per portare in alto anche il nome della nostra città. È stato un fine settimana all'insegna dei festeggiamenti, quello che si è appena conclusa a San Giovanni Gemini. Dopo tre anni di assenza complice alla pandemia, domenica si è svolta la manifestazione in onore della Madonna della Provvidenza, caratterizzata da una profonda devozione da parte della comunità del paese montano. Il sentimento così profondo ha ispirato da 150 anni la tradizionale festa della Fera Sottocuozzo, che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. La festa della Madonna della Provvidenza risale circa al XVIII secolo, quando venne donata alla chiesa di San Giovanni Gemini questa statua, fatta da alcuni mastri legnai siciliani e rappresenta la Vergine Santa della Provvidenza. Una festa che, di anno in anno, si è portata avanti grazie a diverse famiglie e anche quest'anno, dopo questa pausa pandemica di circa tre anni, riprende nel massimo dello splendore. Giorni in cui le celebrazioni religiose si uniscono al folclore, momenti di spensieratezza per tutta San Giovanni Gemini dopo anni di assenza pandemica. È stata l'occasione per ritrovarsi, in particolar modo per i tanti giovani che per motivi di lavoro o di studio guardano da lontano la quotidianità del paese. Tornare con i vecchi tempi, con gli amici, tanta gente che passeggia tra le bancarelle, un po' ricorda quando eravamo più piccoli, poi si magari pranzava tutti dai nonni. È un momento di festa per il paese, soprattutto per noi ragazzi che studiamo fuori. Un fine settimana inoltre di ristoro per le attività locali che negli ultimi anni hanno patito con più bemenza la crisi economica. Considerando che il tempo è stato clemente, perché di solito piove per questa festa, c'era un bel movimento, ragazzi che avevano voglia di divertirsi e comunque una situazione ritengo molto positiva per noi commercianti e speriamo che continui così. San Giovanni Gemini quindi cerca conforto nelle sue ritrovate tradizioni, nel tentativo di allontanare le non poche preoccupazioni fra una crisi economica mondiale e una situazione internazionale sempre più incerta. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un graduale miglioramento del tempo sull'Italia. Si allontana infatti la perturbazione che ha attraversato il nostro paese, lascia comunque dietro di sé un po' di variabilità e si prepara intanto un nuovo sistema nuvoloso che raggiungerà le regioni meridionali nelle giornate di giovedì e venerdì. Per quanto riguarda però appunto questo martedì, la nuovestà come vedete si allontana dall'Italia, si avvicina a qualche nuovo annuvolamento da ovest, ma per il momento situazione che resta discreta, insomma più tranquilla con anche ampie schiarite. Precipitazioni, ancora qualche locale piovasco sarà possibile sulla Puglia centro-meridionale, sulle isole maggiori, sull'Appennino, ma nel complesso, ripeto, sarà una giornata che ci regalerà anche delle belle aperture. Quindi in definitiva, martedì discreto, diciamo, da nord a sud, qualche nuvoletta si farà ancora vedere, ma senza grandi conseguenze, qualche residuo piovasco nelle zone interne delle isole maggiori, sulla Puglia centro-meridionale, sull'Appennino centrale, e come temperature e valori in aumento. Si starà benino con le massime che in molte zone tornano a toccare anche i 25 gradi, ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara